Sì, sì, sono cambiate, sono più sereno, più tranquillo, perché comunque da quella partita lì è cambiato proprio tutto il teramo, diciamo. Non sono stati momenti facili, però con il gruppo, con l'aiuto di tutti quanti, stiamo uscendo fuori e certamente è un giorno di ritorno completamente diverso rispetto a quello di andata. Quindi di questo sono contento, perché poi stanno arrivando anche i risultati, stanno arrivando i gol e sono super contento. Peccato, sì, sì. Sono arrivato poco lucido lì davanti, però va bene così, sono contento della vittoria e adesso giochiamoci le ultime tre finali che sono super importanti per noi. Sì, perché non riuscivo a capire, cioè nel senso era come se gli avessi fatto qualcosa, ma non riuscivo a capire proprio le decisioni, anche perché i falli si vedevano, erano clamorosi, quindi non capivo. Però in quei casi, come mi hanno detto poi negli spiatori a primo tempo, bisogna rimanere concentrati sulla partita, perché altrimenti si rischia di uscire fuori e di fare una brutta prestazione, cosa che non deve accadere, specialmente in questi momenti, perché sono importanti soprattutto per il discorso salvezza. Adesso, dopo questa vittoria, se continuiamo così, ci possiamo togliere tante veramente soddisfazioni. Sì, 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 è uguale a Vibbo, diciamo. Quanto ti mancava il gol? Sì, sì, no, no, mancava parecchio, perché comunque erano tanti mesi che in casa non segnavo e finalmente è arrivato anche in casa. Però si vede proprio che è il giorno di ritorno che è completamente diverso, proprio l'approccio, proprio il fatto di non subire tanti gol, il fatto di essere compatti squadra, cosa che nel giorno d'andata un po' ci mancava. Il mio unico rimpianto è quello delle prime 13 giornate dove ero in difficoltà e se no quest'ora possiamo parlare anche di tanto altro. Sì, sì, dopo Montevarchi è scattato, come diceva prima Angelo, ci siamo riuniti fra di noi, abbiamo parlato chiaramente, perché se no così non si poteva andare avanti. Quindi si vede che è palese che è cambiato tanto, soprattutto anche con l'aiuto che diamo anche noi attaccanti, perché torniamo molto. Quindi è tutto un lavoro di squadra che poi viene ripagato con queste vittorie. Cosa è cambiato, perché questo ultimo scorcio di stagione, in un termine che ha trovato una continuità di risultati, gioca di squadra e finalmente è un'identità. Quindi cosa è cambiato? È cambiato che con il lavoro, senza comunque mai disunirci, senza mai mollare, siamo riusciti a trovare l'identità che prima non avevamo. Quindi io penso che il merito è tutto nostro, del mister, che è sempre stato sul pezzo, ci ha sempre aiutato. E soprattutto nostro, che abbiamo fatto gruppo, abbiamo capito in che posizioni ci dovevamo abituare, perché comunque non è facile come è stato il nostro giorno d'andata. Invece da uomini che siamo l'abbiamo capito e ne stiamo uscendo alla grande. Sì, è chiaro che in 35 giornate scegliere uno o due episodi per descrivere un campionato molto riuscito. Però per descrivere una parte, il campionato, il gol di Gabriele Bernadotto a fermo è stato quello il punto di svolta. Guarda, sì, anche a fermo è stato un gol importante, però nel giugno di ritorno quasi tutti sono stati fondamentali, perché se non sbaglio quando ho segnato a parte a Pescara abbiamo sempre vinto. Quindi sono tutti i gol importanti, però a fermo sì, per me è stato quello un po' più pesante. A livello di squadra? Sì, anche e soprattutto a livello di squadra, perché a fermo è stata una vittoria importantissima. Bello, nel finale, l'abbraccio virtuale con il pubblico, l'applauso dei ragazzi della prima estra. Insomma, oggi il Monoli si è dato una mano concreta anche. Sì, sì, ma loro è da inizio anno che ci appoggiano, che ci aiutano anche nei momenti di difficoltà. Quindi è solo da ringraziarli, perché veramente una piazza così, i tifosi sono veramente tanta roba. Quindi li ringrazierò per sempre. Caprile, i tuoi gol l'hanno sempre portato tutti al Teramo, ma questa esperienza di Teramo, nella tua partiera, che ormai sono quasi ai bilanci di fine stagione, come te la porterai dietro? Che ruolo di gol? Sicuramente avrà un ruolo super importante, perché ho giocato, ho avuto continuità, e quindi diciamo che il giugno di ritorno è stato completamente diverso. Come tutti gli anni, comunque qualcosa impari, qualcosa cresci sempre. Come ho detto prima, io di quest'anno l'unico rimpianto grande che ho ancora dentro sono stati il giugno d'andata, le prime partite dove per me quelle potevano, come ho detto prima, farmi parlare di altro adesso. Però purtroppo il calcio è questo, da quegli errori che ho fatto ho imparato, e adesso comunque stanno arrivando i frutti, quelli che volevo. No, ma con Pippo ho un rapporto al di fuori dal campo, quindi non, anzi, noi siamo super amici, e quando segna lui sono contento, quando segno io non c'è assolutamente, abbiamo un grande rapporto. Diciamo che vediamo come vanno queste partite, il nostro obiettivo già lo sappiamo, poi quello che viene sicuramente lo vedremo con il tempo, però se giochiamo così per me possiamo toglierci grandi soddisfazioni.